Sarà l'anno del gallo, si dice porti speranza, la comunità cinese festeggia il suo capodanno a Roma, lo fa in una piazza del popolo gremita, da una parte stand per promuovere gastronomia e turismo, dall'altra un grande palco destinato ad accogliere coreografie per circa due ore. Tutto bello, quanto divertimento tutto bello. Siamo arrivati in realtà, quindi abbiamo visto solo il bimbo. Saperlo fare come loro, per certe persone sarebbe molto adatto. Presente anche il sindaco Virginia Raggi che di fronte alla platea si limita a pronunciare poche parole, rimarcando l'intenzione di voler migliorare le condizioni di vita nei quartieri abitati dai cinesi. Balli e coreografie scandiscono lo show seguito da migliaia di persone, con romani e turisti incuriositi. Comunque è una cosa bella, mi piace, buono a sapere. Il gallo è un buon animale, significa che noi questo anno possiamo fare tanti lavori, tanti soldi, ok? Auguri pure anche per tutti gli italiani. Una festa di primavera organizzata con cura e precisione nella capitale. Celebrare il Capodanno cinese è ormai una consuetudine.